buonasera nemici miei sono proprio io sono su kamikatsu kun il vostro sensei altamente scarso e oggi esploriamo la nuova meccanica di zendikar ovvero le carte bifronte modali le nuove terre magia sostanzialmente terre barra magia che hanno il potenziale di diventare una meccanica che romperà per sempre magic così come lo sono stati companion infatti poi li hanno modificati perché avevano rotto tutti i formati e le carte bifronte modali così come le chiamano loro sono sostanzialmente magie o creature cioè stregonerie istantanee o creature che possono essere anche terre ebbene sì ebbene sì capite se giocate magic da tempo saprete quanto è importante la mana base quanto è determinante la mana le terre pescare terre non pescare terre nella partita e queste carte potrebbero cambiare anche quel problema li sostanzialmente del pescare troppe terre o del non pescare terre perché sostanzialmente nel magic moderno il magic attuale se tu peschi troppe terre e non hai carte che fanno qualcosa sostanzialmente tu sei paralizzato hai mana hai delle terre in mano ma che non servono niente non fanno niente il tuo avversario probabilmente vincerà la partita perché tu hai perso tempo di gioco non avendo fatto nulla nel tuo turno ma avendo solo messo una terra capite cosa voglio dire invece il mana screw è anche peggio sotto certi punti di vista e significa in non pescare abbastanza terre per lanciare le magie che si hanno in mano e quello ti rende praticamente ugualmente paralizzato da avere le magie che ti servirebbe ma da non poter raccastare e quindi trovare l'equilibrio di terre e magie e un mazzo di magic è l'abc cioè non l'abc ma la cosa fondamentale nella fase di costruzione del mazzo e probabilmente i migliori deck build sono quelli che riescono a gestire bene la mana base sapendo esattamente quanto quante foreste quante isole mettere oppure quante terre dual doppie e via discorrendo o fetch land c'è tutta una fase di costruzione del mazzo e generalmente in un mazzo medio di magic le terre sono 24 poi ovviamente i mazzi agro ne giocano molto di meno alcuni ne giocano anche 19 18 20 generalmente i mazzi agro giocano 20 fino a un 22 dipende anche da tipo di mazzo agro mazzo contro invece ne può giocare anche 30 di carte terra perché a magie più costose e a meno hanno droppini iniziali da lanciare e quindi fa più un gioco da late game e ha bisogno di aver assicurato a livello di probabilità il land drop sempre per poter poi che stare in curva la sua mega magia e poi la via di mezzo è il mid range che sostanzialmente ha sia drop più aggressivi che delle bombe da medio medio gioco o comunque qualcosa di contro e sostanzialmente per da quando è nato il medico è stato così ci sono state delle terre che avevano delle utilità ce ne sono vari esempi anche in arena tipo la zona dell'esplosione oppure i castelli di eldraine che fanno degli effetti fanno delle cose però resta il fatto che pescare terra quando non serve o non pescarla quando serve è la cosa più brutta di magic e queste carte bifronte modali che arriveranno con zendica potrebbero cambiare definitivamente tutto questo ebbene sì e sostanzialmente andiamo a vedere esaminarne una per una e darò una valutazione dal mio punto di vista poi posso anche sbagliarmi sapete che sono il vostro senso di scarso quindi fate affidamento su di me pensando a questa cosa ovviamente e darò una valutazione per costruzione è il limite di ciascuna di queste carte bifronte modali comunque un ciclo per colore c'è una carta mitica quattro argento non comuni e una rara per ogni colore e andiamo a vedere esattamente come funziona non cominciamo solo dalla mitica cominciamo ad esempio dalla dalla comune così spieghiamo brevemente abbattimento di cabira due mana un colore uno bianco ovviamente ecco mi sono dimenticato da dire nel mazzo nel cimitero e nella side ovunque sono considerati ad esempio istantanei la terra e la faccia che noi scegliamo eventualmente di girare quindi è un istantaneo che dice l'abbattimento infligge a una creatura un place walk avversario danno pari al numero di creature che controlli quindi questo probabilmente pensato per un mazzo aggressivo e che mette o comunque go wide riempi la board per cercare di sfruttarlo al meglio è una rimozione e quello che volevo dire che noi possiamo eventualmente girarla e giocarla come una terra alto piano di cabira ecco il difetto di queste carte bifrontemodali che le terre entrano tappate e quindi il bilanciamento della carta è dato dal fatto che abbiamo una terra che ci dà mano bianco ma entra tappato quindi è lenta rispetto alla classica pianura però il vantaggio è che rispetto a una pianura se non abbiamo bisogno di mettere una terra in campo possiamo usare l'abbattimento di cabira come una rimozione sostanzialmente e quindi a seconda della partita in cui siamo possiamo giocarla come terra oppure come istantaneo però questa scelta si può fare solo una volta cioè se la giochiamo come terra poi non è che la possiamo girare nuovamente rimarrà una terra in campo a meno che non ce la rimbalziamo in mano e nel set ci sono modi per farlo quindi ovviamente se ad esempio nella mano iniziale abbiamo questa abbiamo solo questa magari un'altra terra magari vale la pena giocarla come terra invece come istantaneo se invece lo peschiamo a turno 5 abbiamo bisogno di qualcosa per far passare le nostre creature possiamo utilizzarlo come rimozione quindi cominciate a capire la versatilità la potenza di queste carte ti cambiano completamente il gioco normalmente se tu a turno 5 e hai bisogno di una rimozione peschi una terra sei nella merda sostanzialmente perdi un turno invece se peschi questa magari qualcosa puoi fare puoi anche ribaltare la situazione capite che è diventa diventa game changing cambia il gioco di magic è una meccanica veramente forte e vedremo se sarà rotta l'idea è che da quel che ho visto che le carte comunque sono sembrano bilanciate però bisogna bisogna vederla all'opera perché il fatto che entra tappata è un grosso downside ovviamente e la magia di per sé l'istantaneo non è eccezionale questo è uno dei migliori però ce ne sono altri adesso li andremo a vedere che non sono esaltanti però le due parti sostanzialmente se si prendono separatamente sono più che mediocri anche al di sotto della media ma se le mettiamo insieme diventano eccezionalmente buone anche perché questa si può sostanzialmente si possono giocare meno terre nel mazzo e giocare 4 di queste ad esempio poi nello specifico no ma come esempio se il mazzo che abbiamo da 24 terre invece ne giochiamo 20 pianure e poi giochiamo 4 di queste quindi sostanzialmente come se avessimo o 4 terre o 4 rimozioni in più e a seconda della situazione la sfrutteremo a dovere e quindi sono perplesso e non so se è una meccanica rotta ma ho l'impressione che potrebbe cambiare magic e secondo me in meglio a differenza dei companion questa meccanica qui mi piace di più perché richiede comunque un deck building più articolato rispetto ai companion e comunque c'è parecchia varietà e sono limitate a un colore e quindi richiede una strategia solo ma comunque vediamole un po' tutte così ci facciamo un'idea più chiara ecco la mitica a differenza dell'argento e delle oro ha un'abilità da shock land che noi chiameremo bolt land perché a differenza dello shock questo ci fa 3 danni e quindi un bolt mentre meria in clave celeste frantumata entra nel campo di battaglia puoi pagare 3 punti vita se non lo fai entra nel campo di battaglia tappato quindi o paghiamo 3 punti vita e entra stappata sono tanti 3 punti vita però possono ne può valare la pena a livello di tempo di gioco per poter castare quello che vogliamo in curva e quindi la possiamo possiamo pagare 3 punti vita e castarla cioè farla entrare in campo di gioco stappata oppure non lo facciamo ed entra tappata ma è solo la mitica a farlo e questo fa un po' cagare perché ovviamente le mitiche sono più costose ecco scusate ve la posso anche aumentare la dimensione così cosa fa richiamo di emeria che è una stregoneria che costa la bellezza di 7 mana quanto in colore triplo bianco crea due piedini creatura guerriero angelo 4 4 bianche con volare e poi le creature non angelo che controlli hanno indistruttibile fino a fine del turno beh questa questa qui è 2 4 4 con volare però la velocità stregoneria per 7 mana non è esaltante ovviamente come magia di per sé se la andiamo a analizzare basandosi solo sul costo di mana e su quello che fa c'è da dire che questo eventualmente può essere una terra e in questo caso migliora la situazione aumenta il voto sicuramente perché magari è la terra che ci serviva o magari in late game abbiamo bisogno di mettere e fare presenza della board e possiamo cassare questa abbiamo il mana necessario ma non abbiamo carte giocabili in mano e se pescassimo una terra sarebbe una disgrazia invece peschiamo questo possiamo creare 2 4 4 angeli e poi dice che le creature non angelo hanno indistruttibile fino al tuo prossimo turno quindi è una protezione da eventuali vratte non per gli angeli ma per le altre creature non so se un mazzo creature giocherebbe una carta come questa il richiamo di emeria però può anche darsi alla fine si può fare in tre stappata per 3 punti vita quindi secondo me in limited questa è una bomba e prende 5 è un first pick secondo me e a meno che non trovate una carta migliore in constructed è comunque un 3 e mezzo 4 secondo me abbattimento di cabira invece e il limited è anche questa secondo me è una bomba il limited il limited sono tutte forti queste carte qui e soprattutto il limited sono forti queste carte qui perchè il limite della cosa peggiore è floddare che floddi non hai un cazzo da fare con tutto sto mana che peschi e quindi anche questa è un 4 4 sicuramente da prendere una rimozione poi carica di makindi 5 mana 3 in colore doppio bianco le creature che controlli prendono più 2 più 2 fino alla fine del turno di per se come dicevo prima se la prendiamo solo come stregoneria è abbastanza mediocre anzi forse anche peggio ma il fatto che sia una terra la puscia oltre ogni limite la mesa di makindi è intratappata però è una terra che magari ci può servire o non servire se non ci serve abbiamo una stregoneria da lanciare dare più 2 più 2 a tutte le nostre creature quindi anche questo è limited magari non è first pick ma è un buon pick quindi in constructed in costrutto magari non penso che possiamo definirla una carta eccezionale in costrutto però magari un mazzo agrio whitewini può giocare a questa è una finisher non è istantanea però comunque e invece di pescare una terra ti peschi la carta che ti fa vincere la partita e poi ecco la rara 8 mana se in colore doppio bianco distruggi tutti i permanenti non terra questo è un must per un controllo ed è una terra è una vratta totale non solo le creature ma anche i permanenti non terra per 8 mana si sono tanti ma questa è una terra è una terra quando vi serve una terra la giocate come terra altrimenti quando la troppe decate che avete questa vratta qui ha 8 magari non è proprio facile da castare ma una in un mazzo controllo non la giochereste? uno per? una vratta in più? una vratta in più non fa schifo a un controllo soprattutto una vratta che colpisce planeswalker artefatti incantesimi e cazzi e mazzi questa è... il limited forse non è il massimo però anche il limited comunque quando sia una situazione di merda l'avversario è troppo avanti rispetto a noi distruggiamo tutto e via oppure abbiamo una terra nelle fasi iniziali quindi anche questa è... questa per me è un altro 4 sia in castarted che in limited poi abbiamo un riparo di 6 giri due mana, un colore, un bianco una cattura, un bersaglio che controlla e protezione un colore a tua scelta fino alla fine del turno è come la carta di M20 è quella che dà volontà degli dei che dà una protezione ma per un mana bianco quindi per capire come l'hanno bilanciata questa carta hanno aggiunto un costo di mana quindi l'hanno reso molto più lenta rispetto all'altra meno efficiente sicuramente due mana sono tantissime in un mazzo tempo è un mazzo che vuole giocare una protezione però come dicevo prima può essere una terra il ghiacciaio entra nel campo di batteria è tappato quando hai bisogno di una terra puoi giocarla come la terra altrimenti hai una spell da lanciare nel mazzo giusto ci sta e soprattutto il limited questo è un altro 4 4 è una carta buona da piccare cioè magari ovviamente non è una bomba first big ovviamente guardate prima le bombe ma è un pacco questo è un trick è un combat trick che può essere anche una terra quindi potete giocare meno terra giocare più spell chierica delle enclave celeste due mano uno in colore uno bianco una creatura chierico core uno tre quando entra in campo di battaglia guadagni due punti vita è un uno tre per due che ti guadagni due punti vita non è proprio il massimo della vita ma per lo stesso discorso è buona magari non in costrutto magari mazzucchierici lo vuoi giocare però il limited è questa un'altra carta che piccherei perché mi permette di giocare meno terra e ho una creatura in più che mi guadagni anche due punti vita e ora vediamo le blu le creature controllate le tue avversari prendono meno 2 meno 0 fino alla fine del turno due mana istantane una magia difensiva che può essere anche un una terra come dicevamo qui e quindi io direi proprio che questa è il limite della buona carta ma anche in costrutto ovviamente bisogna trovare l'equilibrio certo perché noi stiamo pensando alla situazione ideale che peschiamo che possiamo giocare la carta tappata la taglia tappata e quindi siamo opposto avere troppe taglia tappate è sciso a lenta parecchio non so se avete mai giocato il mazzo cancelli però il mazzo cancelli era molto lento e quindi faticava contro i mazzi più aggressivi e per compensare questo aveva a disposizione dei grandi pay off per il fatto che giocassi i cancelli come creature giganti che entravano a bassissimo costo in base al numero di cancelli che si avevano incantesimi che ti facevano pescare carte ogni qualvolta entrava un cancello i creature che avevano dei bonus legati ai cancelli over up legati ai cancelli quindi queste terre non hanno questo pay off quindi bisogna fare anche attenzione a quante se ne giocano perché giocare troppe tira lenta ed è lì il bilanciamento secondo me però pur con questa difficoltà il fatto di avere una possibilità in più con queste carte secondo me le rende potenzialmente pericolose ad esempio Mimic del lago di vetro tremana con colore uno blu puoi far entrare la Mimic nel campo di battaglia come una coppia di una creatura che controlli tranne che un faraplutto polimorfo in aggiunta ai sei tipi beh questo è eccezionale ma che cazzo gli si può dire un cazzo una bomba se si ha una creatura grossa da copiare o comunque una creatura con un ITB se ci fosse ancora Agent questa la fa entrare con Agent lo copio ed è bella la vita meno male che Agent non c'è più questa è una bomba sia in limited che in costrutto anzi in costrutto probabilmente i mazzi che fanno blink effetto questa è una bombazza e non devi neanche levare posto alle altre creature puoi giocare al posto delle terre capite che magari la potenza e poi questa il sabotaggio di J.Y.W.R.. come cazzo si chiami dove vanno uno in colore e uno blu neutralizza la magia al borsaglio a meno che il suo contorno non paghi uno a prima vista direte ma che counter di merda è no guardate bene ragazzi una qualsiasi magia questa è una carta non da giocare in control questa si si può anche giocare è da giocare in tempo quindi tu quando l'avversario devi guardare che non abbia il mano per impagarlo ovviamente ma tu gli counteri qualsiasi cosa, quando usano tutta la loro mana per castare un mega ugi no counteri e via, hai guadagnato sia vantaggio mana che vantaggio tempo ed è una terra, se non ti serve quando è inefficace lo puoi giocare come una terra che è intratappata, tu giochi praticamente 4 counter in più sostanzialmente se la giochi 4 di questi è forte è forte è forte, lo giochi sia il limite che incostrutto è forte è forte poi vediamo la mitica, 4 mana triple blue 7 mana, stregoneria pesca carte pari al numero di carte nella tua mano più 1, non hai un limite massimo di carte in mano per il resto della partita ma da una mitica mi aspetterei qualcosa di meglio devo essere sincero metti il caso che hai 0 carte pagando 7 mana a velocità stregoneria quindi non istantaneo, peschi una carta quindi non istantaneo peschi una carta e questa è la limite parecchio sarebbe stata più sensata peschi 7 carte 4 più 6 si peschi 7 carte o pesca 5 carte se proprio vogliamo bilanciarla a velocità stregoneria o istantaneo sarebbe stato ancora meglio ma capisco che magari sarebbe stato troppo forte anche se comunque il costo di mana è parecchio alto e quindi non lo so questa è quella che mi piace di meno ma potenzialmente potrebbe essere anche forte e poi l'avvantaggio rispetto all'altra terra è che pagando 3 punti vita entra stappata visione di silunni 3 mana 2 in colore 1 blu guarda le prime 6 carte del tuo ghimorio puoi rivelare una carta istantaneo stregoneria scelta tra esse e aggiungere la tua mano metti le altre in fondo del tuo ghimorio è un po' limitante istantaneo stregoneria altrimenti sarebbe una manna per i mazzi combo ovviamente quindi si hanno dovuto limitare e fra queste 6 carte ne puoi aggiungere solo una dovuto rifare a velocità istantaneo però non è male ma non è neanche eccezionale però probabilmente qualche mazzo la giocherà tranquillamente un peschino che può essere una terra o viceversa è il sogno bagnato di qualunque giocatore di control bisogna vedere che control gioca stregoneria istantanea cioè tutti che si basa su quelli perché magari è un control che gioca a planeswalker o artefatti e i tuoi istantanei stregoneria magari non ce li hai o ne hai ma non sono il core del tuo gameplay e quindi è una carta limitata a alcuni mazzi non è male probabilmente il limited non è male per niente perché comunque puoi permetterti di mettere un peschino e levare una terra mago di un omara 5 ma 4 in corno e uno blu è una 4-3 mago tritone ogni qual volta lanci una magia istantanea stregoneria o mago quindi creatura è mago il mago a volare fino a fine attorno creatura più che mediocre è un 4-3 per 5 non è per niente esaltante però è una terra è limited anche questo fa hai un 4-3 invece di una terra in late game invece di topdeckare un'isola topdecki una cattura da mettere che magari può cian bloccare oppure può portarti alla vittoria chi lo sa bomba avevo detto che avevi dato dei voti e ho iniziato così il video ma mi sa che cambi idea perché è difficile dare voti sinceramente per me sarebbero quasi tutte 4-5 se le valuto nella loro interezza e considerando però non sappiamo ancora dobbiamo testarle in gioco e farci un'idea potrebbero essere la cosa più rotta dai tempi di Eldraine oppure potrebbe essere una meccanica abbinanciata oppure potrebbe essere qualcosa che cambia magic per sempre poi abbiamo le sveglie di Agadim tre mananeri X stregoneria e dice rimetti al tuo cimitero sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte creature del borsaio che hanno ciascuno costo di mana convertito diverso pari o inferiore a X quindi ipotesi quindi tu paghi in totale cinque mana tre mananeri più X paghi due poi rimetti nel campo di battaglia due creature uno ad esempio che abbia costo di mana uno e l'altro che abbia il costo di mana due e quindi hanno due costi di mana differenti convertito bomba questa è una bomba effettivamente tutti i mazzi sa che i fai sono rianimator vogliono avere una terra che eventualmente può diventare una cosa che rianima e poi se ovviamente se non ci serve la magia giochiamo come terra e se la vogliamo stappata paghiamo tre punti vita Agadim nella cripta sotterranea o se no se abbiamo invece bisogno di di rianimare creature abbiamo questa bomba una bombazza sia il limite che il costrutto soprattutto il limite ovviamente ti dà tanto valore poi abbiamo il furfante di nero boccio tre mana due in coloro uno nero una due tre con minacciare e la furfante prende più tre più zero fin tanto che un avversario ha otto più carte nel suo cimitero e questo è l'archetipo dei rog mill il fatto che l'avversario abbia otto più carte nel suo cimitero e sostanzialmente in quel caso lei è una cinque tre per tre con minacciare non è eccezionale siamo tutti d'accordo ma è una terra se non ci serve oppure invece di pescare tre rappreschiamo questo che può essere una cinque tre con minacciare capite la potenza soltanto se avete giocato abbastanza magic soprattutto se l'arena sapete quanto può essere devastante il pescare terra o non in pescarlo a seconda della situazione e queste carte qui risolvono sto problema sbranamento di agra quattro umana ad un colore doppio nero istantaneo questa magia costa uno in meno per essere lanciata se un avversario non controlla terra base quindi potrebbe costare tre se l'avversario non controlla terra base ma probabilmente sarà un evento molto raro soltanto contro contro e contro un contro magari tricolore ma dei vecchi tempi e non giocare la creatura quindi è un evento molto raro può succedere e dice distruggere la creatura rossaio per quattro umana istantaneo ma ci sta la grande invece e può essere una terra posso giocare quattro rimozioni in più con questo nel mazzo levando quattro terra metto quattro di questo quattro rimozioni in più un mononero agolo può giocare tranquillamente una carta così c'ha la rimozione o la terra a seconda di quello che gli serve magari non vuole pescare la terra nelle fasi più avanzate vuole pescare una rimozione per lavarsi bloccante davanti è forte costa cara rispetto a atto ospitato sì ma è bilanciato il fatto che costi quattro due in più dalla versatilità della carta è normale che non debba costare come atto spietato altrimenti sarebbe veramente OP sarebbe oltre ogni limite di potenza capite cosa voglio dire ci vuole il downside e da quello che vedo il downside ci sono dal costo di mana dal fatto che la carta è intratappata la terra però comunque rimangono forti secondo me a un parere proprio a freddo a freddo sono forti non riescono a levarmelo dalla testa rinascita di malachir un mana nero scegli una creatura di bersaglio perdi due punti vita fino alla fine del turno quella creatura ha quando questa creatura muore rimetti al suo campo di battaglia tappata e sotto controllo del suo proprietario quindi non la possiamo usare su una creatura di bersaglio per rubargli una creatura ma la possiamo usare su una nostra creatura per proteggerla ed è una protezione a velocità instant per un mana nero in nero e ti costa due punti vita ma ti salva la creatura oppure permette di riattivare l'etb l'effetto di entrata di quella creatura quando la andiamo a sacrificare e questa ha molto potenziale effettivamente ed è una terra anche questa è molto buona predazione di pelacca tre mana due in colore e uno nero un avversario rivela la sua mano scegli una carta con un costo di mana compatito pari o superiore a tre da quella mano il giocatore scarta quella carta scartino è molto costoso molto limitato però quando beccate un Ugin con questa per tre mana gli la faccio io lo fai scartare godete come dei ricci ve lo assicuro io ed è una terra ovviamente forse è una delle peggiori di queste però comunque è uno scartino che se non vi serve lo scartino è una terra versatilità al suo massimo estremo e poi abbiamo consumazione di Zoff 6 mana 4 in colore doppio nero stregoneria ogni avversario perde 4 punti vita e tu guadagni 4 punti vita molto cara non abbastanza buona secondo me però è sempre il solito discorso andiamo avanti color rosso guerriero di Akum 6 mana 5 in colore 1 rosso un 4-5 contravolgere non esaltante come statistiche ma è sempre il solito discorso furia di Kazul 3 mana 2 in colore 1 rosso istantaneo come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura la furia di Kazul infligge il danno pari alla sua forza della creatura sacrificata a qualsiasi bersaglio bomba bomba è fling che costa un mano in più di fling però può essere una terra qualsiasi mazzo rosso ghoul o che gioca a creature e ha rosso vuole giocarla questa è un'ottima finish magari ti mancano quegli danni per uccidere l'avversario bomba sacrifici la tua creatura spari face hai vinto questa è bomba 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 anzi è un qualsiasi bersaglio quindi la puoi usare come rimozione bomba schianto di fantuma teschio doppio rosso x lo schianto infligge x danni di vita attroscelta divisi attroscelta tra fino a due creature e o planeswalker bersaglio quindi o due creature o due planeswalker o una creatura o una planeswalker sostanzialmente se x è pari a superiore a 6 lo schianto infligge invece danni pari al doppio di x divisi attroscelta tra essi eccezionale eccezionale rimozione mini vratta e colpisce anche planeswalker ultra 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 versatili per due mana rossi x quindi a seconda di quanto paghiamo e se no la giochiamo come terra paghiamo tre punti vita può entrare stappata bomba bomba una in qualsiasi mazzo rosso non te la giochi anche in monorosso come un'emozione non la giochi che senso ha non giocarne una capite cosa voglio dire cosa ti leva ti rallenta forse un pochettino ma se monorosso nello top deck a questa nelle fasi avanzate non è meglio si leva i bloccanti o planeswalker che io un po' le balle può tornare in partita questa è una bomba che cazzo ti vuoi dire bomba bomba tradimento del canto di follia 5 mana 3 colore doppio rosso stregoneria prendi contro la caricatura per serio fino a fine al turno la stappi la rapidità fino a fine al turno è un atto di tradimento ultra costoso per due mani in più e ovviamente il claim the first bone reclamare il primo genito è molto più conveniente quello qua abbecchiamo tutte le creature e come dicevo prima può essere una terra se non ci serve e quindi anche questa è una carta molto buona insidia del campo guzzo un mana rosso l'insidia infligge un danno in qualsiasi bersaglio se un permanente acquistato e infitto danno in questo modo sta per morire invece esiglialo ha un mini shock il santano che esilia robe esilia uro questo perché come è scritto il testo quando giocano uro senza averlo fatto fuggire lo devono sacrificare quindi noi infliggiamo instant speed un danno a uro prima che muore e quando lui muore invece viene esiliato per via dell'effetto di questo per via dell'effetto scritto nelle regole di questa carta quindi è esposta di mono rosso a uro ed è una bomba e poi comunque può uccidere il creaturino o finire planeswalker o finire creature che hanno tradato con altre creature bomba risveglio di valakut tre mana due in colore uno rosso metti un qualsiasi numero di carte dalla tua mano in fondo al tuo grimorio poi pesca altre tante carte più una e questa doveva essere blu e questo è il peschino per il rosso probabilmente lo useranno per pescare una carta perché magari avranno una mano vuota ovviamente dopo averti sparato in faccia ma questa invece potrebbe anche essere una terra o se la terra non gli serve può essere un peschino bomba ora vediamo il verde recupero di balaged tre mana due in colore uno rosso riprendi mano una carta bersaglio dal tuo cimitero una carta bersaglio non permanente qualsiasi carta buono poi riprende un placewalker un istantaneo o una stregoneria buono di solito il verde dice permanenti questo invece è tutto anche una terra buono e può essere una terra mammut di kazandu katzinkul fa cicciak e tre mana un colore doppio verde tre tre che ha terraferma landfall ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto autocontrollo e mammut prende più due più due fino alla fine del turno bomba un tre tre che ogni qualvolta entra nella terra diventa 5-5 fino alla fine del turno o anche di più se avete modo di ultrarampare o eventualmente se non avete bisogno di terra una terra imboscata di cani tre mana in colore uno blu una creatura bersaglio che controlli lotta con una creatura bersaglio che non controlli una rimozione per tre mana istantanei buona costa di più delle altre rimozioni in verde che medialmente costano due mana ma questa può essere una terra sempre il solito discorso bon pa soprattutto il limited questo è il limited ti permette di giocare quattro terre in meno se ne pecchi quattro flora edra gravigliato due mana uno in colore uno verde uno elementale che tappa aggiunge uno oppure una terra a seconda della situazione possiamo usarlo come rampino oppure come terra carino forte cioè la due del paradiso ti aggiunge una mana di un qualsiasi colore per due mana ma questo può essere anche una terra poi vediamo la mitica simbiosi di legno torto quattro mana in colore triplo verde stregoneria dice guarda le prime sette carte del tuo primorio puoi mettere sul campo di battaglia una carta che attura scelta tra esse se quella carta ha un costo di malacombattito pari o inferiore a tre entra con tre segnalini più uno più uno addizionali metti l'altra in fondo del tuo primorio in ordine casuale bomba si che è costa cara sette mana sono tanti questo che la bilancia però il verde non è un colore che ha problemi a rampare o a fare mana mi dicono e quindi magari a turno 5 turno 4 la fai e ti casti un mega ciccione o se hai sfiga e becchi un droppino almeno ti entra con tre segnalini più uno più uno è un'ottima carta e eventualmente può essere una terra che paghi tre punti vita e entra stappata bombazza fortificazione di bosco vasto un mala verde istantano metti un segnalino più uno più uno su una cartola bassaio non è eccezionale nell'archetipo giusto magari ci può stare anche perché può essere una terra e chi l'avrebbe mai detto l'ho detto cinquantamila volte in sto video la versatilità di queste carte è qualcosa che potenzialmente può cambiare magic per sempre e l'abbiamo visto anche con le avventure fatto della versatilità di avere o una creatura o un istantaneo stagoneria in una carta le rende estremamente versatili e forti e poi abbiamo le nuove terre dual che avremo mancano azorius colgari e ho dimenticato o forse azorius c'è sì ci manca anche ragdos sì anche ragdos abbiamo solo queste per il momento chissà se arriveranno sono carte che come dicevo prima o puoi farle entrare come una terra che aggiunge mana bianco ad esempio in questo caso una terra che aggiunge mana nero a seconda della situazione il problema rispetto alle altre dual land che una volta che hai scelto rimangono quelle e quindi se poi ti serve il mana bianco tu c'hai questo che ti aggiunge mana nero e se poi ti serve il mana nero invece c'hai questo che ti aggiunge il bianco e quindi non sono il meglio della vita secondo me sono forti infatti io vi consiglio prima cosa quando arriva a Zendical se volete craftare qualcosa o avete carte da craftare queste sono tutte da craftare io investirei 1 2 3 4 5 6 6 per 4 24 24 orare solo per queste mettetelo in conto per due anni saranno lo staple la base di tutti i mazzi con più di un colore mettetelo in conto questo è l'investimento per il futuro se volete investire siete nuovi nel gioco le dual land è l'investimento da fare il caposaldo è quello le terre è la base del gioco ed è per questo che vi dico che queste sono forti perché cambiano il nostro concetto ti permettono di avere sia una terra che qualcosa da fare le terre sono la base di magic sono quello che probabilmente rende magic quello che è perché io gioco anche altri giochi di carte ed è a me il gioco di tutto non piace mi piace la strategia delle terre e delle risorse a volte il difetto del sistema è il mana for the mana screw che a volte fa incazzare anzi spesso fa incazzare soprattutto su arena dove lo shuffler è un po' mal fatto diciamo così non è fatto bene o volutamente non è fatto bene ma lì entriamo nelle teorie complottiste e io sono un complottista molto spesso in queste cose ma quella è solo la mia opinione le terre tornando al discorso di prima le terre comunque sono fondamentali e questi sono craft obbligati secondo me poi ovviamente se le aprite nella busta è tanto meglio per voi e se avete appena iniziato vi conviene concentrarvi prima su un mazzo che vi piace e vi prendete la terra che serve per quel mazzo e poi piano piano vi craftate le altre ma mettetelo in conto che queste sono carte da craftare le terre sono la base di magic di tutti i mazzi che vogliono performare devono avere delle terre buone altrimenti quando vorresti giocare una magia non puoi perché non hai la terra del colore giusto e quello fa male perdere perché non si è normale e quello potrebbe essere il fatto che rende queste carte non pericolose comunque bilanciate il fatto che entrano tappate e giocarne troppe potrebbe rallentare parecchio un mazzo quindi probabilmente le vedo al loro meglio io un mazzo control magari bicolore che non è un mazzo agro o magari un mazzo midrange che possono permettersi di fare entrare una carta terra tappata senza troppi pateni mono rosso fatica a fare farsi entrare una terra tappata vuol dire perdere un turno può essere può essere pericoloso per vincere per lui ad esempio bene abbiamo detto tutto per questo video non so quanto è durato ho parlato un po' non so neanche se ho detto cose intelligenti so solo che mi sono ripetuto parecchie volte però è la confusione che ho in testa in questo momento su queste carte ed è una bella innovazione sicuramente una bella innovazione per magic in generale come idea mi piacciono molto interessante molto figa tipo questa è stupenda per un giocatore di control è un sogno bagnato ma quello che voglio dire è che probabilmente il set di per sé sembra meno forte dei precedenti quindi potrebbe essere che queste alla fine si rivelano non conveniente giocarne per il fatto che come terre non sono al massimo non sono al massimo neanche come magie quindi questo lo vedremo solo giocando se avete critiche suggerimenti pensieri opinioni riguardo al video riguardo al tema e a queste nuove terre lasciatele qui sotto nei commenti a me fa sempre molto piacere dialogare con voi discutiamo insieme c'è anche un canale discord dove ne discutiamo molto profonditamente con gli utenti quindi se vi volete iscrivere volete parlare con altri come voi che hanno la vostra stessa passione oppure postare i vostri mazzi chiedere consigli e organizzare sfide e tante altre belle cose iscrivetemi sarà vi aspetto lì mi raccomando like al canale iscrivetevi al canale in questo modo continueremo a crescere continueranno ad arrivare nuovi video e saranno sempre migliori io vi auguro una buona notte ci vediamo al prossimo video bye bye ciao ciao ciao